Sì, sapevamo che era una sfida difficile e Latina era andata a Foggia a vincere. Avevamo preparato la partita per bene, siamo stati bravissimi i primi 70 minuti ad andare in vantaggio e a tenere la partita. Poi ci sta l'errore di subire il rigore che hanno riaperto la partita, però siamo stati bravi a tenere il risultato e a portare a casa la vittoria. Oggi sei stato grande protagonista, anche sfortunato, hai segnato un gol, però ne hai mancati due in maniera clamorosa. Da un attaccante come sei, non ce l'aspettavamo, sei stato troppo precipitoso. Sì, ci sta a sbagliare, sono contento che ho fatto gol e portato la squadra alla vittoria. Lavorerò ovviamente per non sbagliare, poi ovviamente l'errore ci sta, l'importante è rimediare. Dopo subito l'errore che ho fatto sono riuscito a fare subito gol. Sono contento della vittoria, ora cerchiamo di metterci subito a posto, di recuperare l'energia che mercoledì già c'è una partita importante. Quanto vale questa vittoria dopo quella con l'Avellino e a poche ore dalla partita con il Crotone? Siamo veramente contenti di aver vinto questa sfida, sapevamo come ho detto prima che era una partita difficile. Stiamo lavorando bene e lavoreremo ancora per migliorare e non fare questi errori e chiudere la partita prima. Stiamo lavorando bene e non faremo.